musica musica allora il reddit è bianco ok ora funziona ora non è più bianco per favore a chiunque abbia visto contatti il numero in sovraimpressione non potificati il dealer del casino qui sa anche gli amici del paddock la famiglia sono il grafico lo vuoi a torta a barre, a linee, ad area a punti del info ma che foto avete preso dai Che foto, perché non prendete foto Un attimo migliori Che figura ci faccio poi Ultima trasmissione Quattro giorni fa, grazie Fede Donna santa Sì, ma dai ragazzi Sette giorni, otto giorni Dieci giorni, quel che sono Ah, questo l'ho visto Questo l'ho visto Sono in Liguria? Loro, io non sono in Liguria Se potete chiedere ad Andrea di venire a Milano Entro lunedì, perché poi lunedì Sono in vacanza con i miei giuditori, i miei nonni Siamo staturi dei vostri subiti di Cigi La vostra valenza, la vostra supponenza La vostra mancanza di rispetto per chi lavora Il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello Però aspettando uno sguardo Un amico per non pagare e per bere gratis Per sentirsi protagonisti Con un bracciale del privé Siamo sui del vostro Fammi un drink carico Il vostro brollo Ragazzi Voi continuate a chiedere Grazie Pericare Se voi continuate a chiedere Il drink bello carico Per favore Con educazione Ve lo continueranno a fare Un gym mate bello carico Salutiamo assolutamente La community dei mod O come ti ha assolutamente corretto il T9 Dei modificati Che non so cosa voglia dire ma mi fa molto sorridere In effetti Siete modificati nel cervello voi purtroppo Ma modificati dovrebbe essere la community di Omniator Se non ricordo male Esatto Esatto Un saluto anche a Omniator Ma vai a cagare Chi è questo coglione Ma vai a cagare Ma vai a cagare Viking Si chiama Viking Ma vai a cagare Viking Tu e la tua comunità Ho bisogno di soldi ragazzi Punto esclamativo Prime per favore Museo del Duv Settembre del 2022 Persone estasiate Dall'artista svizzera Che si ritrae in una posa provocatoria Il Crystal Reverso I di Crystal Away D'esta rabbia Ma anche curiosità Per persone che stanno ore e ore In coda per vedere L'opera del momento Grazie Colonna È giusto 30 pong Deve essere andata così Allora noi volevamo prendere Avete visto che Negli hotel Molto bello Questo signore Con gli occhi Strabuzziati Noi dovevamo prendere Dovevamo rubare il quadro Però Per non dare dell'occhio Lo volevamo mettere Nello zaino E sporava Di circa Mezzo metro Dallo zaino Grazie per il tuo Per il tuo E Nulla Questa era la situazione Sportunatamente Poi il giorno dopo Non l'abbiamo Non l'abbiamo messo Non l'abbiamo messo Non l'abbiamo messo Nella cima di mezzo metro Quindi abbiamo Abortito la missione Dico la verità Eh Sono Sono amico di Eh Cosa devo fare Non devo mettere like A una mia amica Che fa una foto Eh Ma che emot mi fate Ma cos'è Una stem emot di sto cazzo Che faccio cose strane Con la testa Dai Ma cosa Ma tordi Ci sono queste emot Vabbè Mi immagino che Starò succhiando via Una cosa Di una ape Questo mi immagino Perché se no Mi viene da arrabbiarmi Per favore Rice Per favore Dai Dai togliamo queste cose Per favore Togliamo queste cose Dai Togliamo tutte queste cose Per favore Per favore Per favore Devo Per favore Dai Dai Non si può tornare così Non si può tornare così Non si può tornare così In live Dai Dai Dov'era il mio vecchio mod Come si chiama il mio vecchio mod Quello di prova Lì Come si chiamava Eccolo vai Il famosissimo Ma dici il tuo nome Come ti chiami Carlo Mi chiamo Carlo Sei un fenomeno Meglio del monopattino Eh vabbè Devo piano Ma questo se il cane Si ammazza Ci vado a farci un luogo Per questo Non cazzo Se il casco Non mi faccio niente Ma va Sei velocissimo Vai un po' Ma si ammazza Carlo Ragazzi Ma Carlo se Mi sta scomparendo il cazzo Sembra che c'ho tre palle La mia diva Mi rimetto le mutande Ragazzi basta Ma hai rotto il cazzo Il treno di sfera e basta Non mi piace più Finito Finito E' tempo Di dire Che è finito John Se metti il tanga Non ti faccio più A tutti i migliori Che hanno scoperto Un termine nuovo Ma che esiste Da una vita E che fanno partire Con le donazioni Le musiche dei Maranza Fake Questa è Cos'è questa Danza La danza dei Maranza Che danza La danza dei Maranza E' un po' lo che Danza La danza dei Maranza E' un po' lo che Danza La danza dei Maranza Jello Beats Holla at me Sono bello come profumo Sono bello come profumo Mi riesco a libero che sono in teo occhi Ok Patrice In quadra Zoom 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 Underrate Underrate Sfigato Riceve l'occasione Della sua vita E dice la N-Word Davanti 2000 spec Zoom 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 Alla faccia Devo questo Zoom 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 proviamo, era un bar, era un bar, era un cazzo di bar. Un saluto ai modificati, saluto, ah allora hanno anche loro uno spirito, non lo sapevo, ma cosa, ma esistono i spiriti, un saluto ai modificati, saluto, ah allora hanno anche loro uno spirito. Grazie Dario, grazie Vatabozzi, ma io lo seguivo lui da piccolo. Grazie Donald, forza Donald, grazie Marco, grazie Donald, make American great again! Grazie Actory, ok questo è noi e il nostro viaggio. Chi è? Michelle l'esploratrice. C'è un furbetto, c'è un furbetto qua eh? E Grazie a tutti, grazie a tutti. C'è? I'm well, nice to meet you. Here we go. Ready? Potete? Non è su una canna, sono passata a potere. No perché credo che sia non smoking aria. Fai una canna, dai. Weyla, è arrivato il camorrista. Forza Juve! Vai uomo! Forza Juve! Ci siamo venuti a Juve! Juve! Fai stati! Fatastab! Ragazzi, non potete stare qua. Eh, però stiamo facendo uno in uno con lei. Ah, ok, ok. It's ok, it's all friends. I'm here. I'm here. It's my meet and greet. I'm the streamer. Poi ti vogliono imbrancare il nome. No, no, proprio, proprio. The Under. Non mollare. Ma che casino abbiamo lasciato? Eeeh, questo? E questo? Perché questo è stato mangiato non so da chi. E' figo, questo dovremmo metterlo, dovremmo metterlo. Manca l'unica parte che manca. Abbiamo fatto anche un TikTok. Minore di tre. Grazie, Gio. E poi la, la, la mamma dello chef mi ha portato un caffè. Voto nove e mezza su dieci, perché era lontano, tanti due non potevano essere, non potevano venire. Ma senza contare voi che non potevate venire, forse dieci su dieci. Siamo divertiti. Sono arrivate tante persone non italiane, eh? Cioè, no, non le avevo chiamate io, però... Benvenuto Caporelli. No, 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 non c'è a te. Questo non è, non è importante. Non è importante. Potrò mettere qualcos'altro sugli schermi. Vabbè, è un trend, è un trend, è un trend di Twitch. Guardate come sono ringiovanito, ragazzi. Ah, grazie, Cor, guardate qua, guardate qua. Eccoci qua. Ah, io. Io, Simone e Lussorio, eccoci, noi tre. Io di solito sono alto un po' come Simone e Lusso, eccoci qua. Grazie mille, Cor, guarda che belli, guarda che belli. Lussorio con il suo cappello, Simone con il suo baffo e io con anche io il mio cappello all'indietro. Eravamo a Parigi, eh? Io credo che l'Italia sia la migliore del mondo. Or, fuck the other countries. I think Italy's the best. Fuck you, fuck America. Fuck UK. Viva Ucraina, viva Ucraina. Ucraina, I love Ucraina. Viva Ucraina. Viva Ucraina. Viva Ucraina. Viva Ucraina. eh io non potevo godermi reddit ragazzi perché se fai tante il non torni a casa per cui ah che ricordi che ricordi ricordi ma poi ho fatto bannare uno streamer poverino homie ban paris addiction homie ban che ban ok quel ban ok ok vabbè gli altri giorni è andata meglio dai grazie lampada sì ma a un certo punto mi dicevate non ti vogliamo più vogliamo le clip vogliamo le clip oh ma nessuno ma scusate mi ho fatto delle frog splash clamorose nessuno che le ha che le ha clip mi mandatele ci so ci sarà una clip della mia frog splash a un certo punto mi dicevate mi piace perché mi piace